...gestire il potere tramite nomine e senza elezioni. Allora oggi si sta continuando nelle nuove province a gestire il potere in maniera personale e chi vi parla è uno che non ha avuto niente di qua dentro. Io forse sono uno dei pochi che non ha avuto niente. E te lo dico con cuore in mano. Molti di quelli che hanno cambiato la sacca in questo Parlamento hanno avuto nomine aiosa, di parenti, di amici, di amici degli amici. Allora dobbiamo smetterla con questo giro. E allora con questo giro di gioco dobbiamo smetterla. La nomina dei commissari deve essere rivista. Allora scusate, io ho iscritti a parlare l'onorevole Musumeci, l'onorevole Figur...